Allegoria della Felicità Pubblica è un progetto culturale e curatoriale che prende le mosse da Trento Capitale Europea del Volontariato 2024. L'idea non è quella di dare un corpo espositivo a un concetto complesso ma evanescente come quello del volontariato, ma di andare a scavare a fondo cosa c'è dietro al volontariato, che senso ha fare volontariato. La Felicità Pubblica non è semplicemente la somma delle felicità personali, la felicità personale non è il semplice edonismo, raggiungimento di obiettivi primari, magari di stampo economico, ma è qualcosa di molto più ampio. È un interesse sociale, un interesse condiviso, è un interesse che si persegue in molte forme, ad esempio attraverso appunto il volontariato, l'associazionismo, ma anche attraverso una educazione che non sia coercitiva attraverso un modello economico differente, che non sia semplicemente improntato su un'economia monetaria, su una crisi economica, ma sul concetto di dono. L'idea appunto è che la felicità sia un concetto evanescente che dobbiamo poter agganciare attraverso stimoli culturali ed esempi artistici.